Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, è un video ovviamente celebrativo perché Elia Viviani è il nuovo campione europeo di ciclismo su strada un'impresa strepitosa, strepitosa davvero una volata pazzesca, forse la più bella corsa in carriera di un ragazzo che stimo tantissimo che ho visto, concedetemi il termine, scendere a livello in pista per vincere le olimpiadi e adesso triunfare anche su strada non è il primo successo su strada di Elia, meritava qualche tappa anche al tour, è stato un po' sfortunato e non è riuscito a portare a casa la vittoria di tappa ma è un ragazzo eccezionale, dalle qualità veramente incredibili oltre che essere un bravissimo ragazzo e ha vinto questo europeo in volata, una volata non facile, una volata concedetela più da pistarde che da strada perché era così, è stata praticamente una volata abbastanza lunga e lui è stato proprio bravo, ha capito il momento dove anche manca calava un po' e ha tirato proprio come un dannato e ha portato a casa questo successo secondo me storico storico e meritatissimo, è meritatissimo, ve l'ho detto che con Viviane abbiamo trovato un grande velocista la pista, inteso come ciclista su pista, l'ha migliorato in maniera esponenziale e oggi ad Alkmar in Olanda si è visto questo, cioè si è visto un ciclista completamente nuovo, veloce pronto per giocarsela con tutti e adesso vediamo il mondiale, potremmo, magari non quest'anno, magari non il prossimo però è un corridore che può darci grandi, grandi, grandi soddisfazioni complimenti Elie Viviani, secondo titolo europeo consecutivo per la nazionale italiana di ciclismo l'anno scorso vinse Matteo Trentini, quest'anno vinse Matteo Viviani e Elie Viviani scusate, Matteo Trentini e Elie Viviani prima di chiudere ovviamente la precisazione, so già che qualcuno molto probabilmente criticherà anche questo video ma ancora se dopo tre anni di fuorilosa tv non avete capito che questo è un canale che parla degli eventi e non mette highlights degli eventi il problema è anche vostro, secondo me è più vostro che mio sinceramente quindi lo dico già subito, così mettiamo le cose in chiaro grandi Elie Viviani che vince il titolo europeo su strada insomma non c'è nient'altro da aggiungere l'Italia è ancora una volta col ciclismo sul tetto d'Europa ciao a tutti ragazzi, al prossimo video